Buongiorno a tutti, vi auguro una felice e una santa vita gente. Ci troviamo qui per un momento di preghiera insieme in cui ringraziamo il Signore per il riposo notturno che ci ha concesso per poterci risvegliare anche oggi in una nuova giornata per compiere la sua santa volontà. Anzitutto oggi essendo lunedì desidero augurarvi un felice inizio settimana con la grazia di Dio che possa toccare il nostro cuore. Celebriamo quindi insieme questa preghiera di ringraziamento nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Voglio proclamare il nome del Signore, date gloria al nostro Dio. Ascoltate o cieli, io voglio parlare, ho dalla terra le parole della mia bocca, stilli come pioggia la mia dottrina, scenda come rugiada il mio dire, come scroscio sull'erba del prato, come spruzzo sugli steli di grano. Voglio proclamare il nome del Signore, date gloria al nostro Dio. Egli è la roccia perfetta con l'opera sua, tutte le sue vie sono giustizia, è un Dio verace e senza malizia, egli è giusto ed eretto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Meditiamo la parola di Dio che ci è donata per questa giornata. Dalla lettera ai Romani, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame e la nudità, il pericolo, la spada. In virtù di queste cose, noi siamo più che vincitori, per virtù di colui che ci ha amati. Preghiamo come Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. E che la nostra preghiera di lode si metta in opera nel nostro quotidiano. Ti adoro, o mio Dio, ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato questa notte. Ti offro le azioni di questa giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria tua. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. E al termine di questa nostra breve preghiera insieme, desideriamo invocare e implorare la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi. Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. E con questo panorama bellissimo sulla piana di Santa Scolastica qui a Norcia, voglio augurarvi una buona giornata e come sempre vi auguro una felice e una santa vita.